siamo ok allora buonasera a tutte e tutti quanti benvenuto a questa videoconferenza organizzata dal circolo war di modena un qualche giorno di ritardo sulla giornata delle donne sulla scia dell'8 marzo ci occuperemo questa sera del tema dei rapporti tra femminile e maschile in particolare la nostra relatrice la professoressa bruna adolini già ordinaria di biochimica e biologia molecolare presso l'università di sassa di bologna tratterà di quanto ci sia di naturale biologico nel rapporto uomini donna e quanto invece abbia matrice culturale è per noi un piacere di averla come relatrice dal momento che in passato ha già collaborato sia con il nostro circolo che con altri circoli war se siete interessati a vedere precedenti conferenze vi invito a consultare il sito del nostro circolo ho fatto una veloce ricerca war modena e dove potrete trovare tante registrazioni e fra le altre anche quelle della darwin day del 2019 dove abbiamo sempre avuto lei come protagonista diciamo ne approfitto inoltre per invitarvi a segnarvi sulla vostra agenda la nostra prossima videoconferenza prevista per il 22 aprile in quella data avremo più ospiti alcune ate altre religiose che ci parleranno dei patriarcato e religioni come al solito come altre videoconferenze precedenti questa sera potrete sottoporre domande commenti scrivendo su facebook avremo una sessione domande risposte finale in cui la professoressa potrà darvi replica ora mettiamo fine agli indugi e passo volentieri la parola a bruna a te buonasera a tutti grazie ancora una volta di avermi invitato a presentare un po di scienza al circolo war di modena e questa sera parliamo dei rapporti uomini e donne fra natura e cultura e questa è una frase di santo maso d'aquino la donna è un errore della natura una sorta di maschio ma riuscito e deforme qualcosa che non è previsto ma deriva da difetto e questa idea del femminile in realtà è molto più antica perché anche pitagora si era espresso in modo piuttosto negativo riguardo alle donne ritenendo le frutto di un principio cattivo che aveva creato il caos le tenebre giusto appunto la donna queste sono le basi culturali che hanno determinato poi la successiva evoluzione che ha portato ancora ad oggi ad avere la condizione femminile in una posizione di sudditanza con diversi diritti rispetto ai maschi e situazioni addirittura in cui viene negata addirittura la fisicità delle donne oltre a venirne negata la vita tutto questo contrasta però con questo risultati presentati dall'istat nel 2020 in cui si dice che la maggior parte dei condannati definitivamente in italia per reati vari sono maschi su centomila abitanti i condannati di sesso maschile sono 837 mentre quelle femmine sono solo 139 fra l'altro questi 139 sono eminentemente prostituzione o occupazione di appartamenti per dare una casa ai propri figli questo dimostra una evidente contraddizione fra quello che è il sentire culturale e quella che invece è la realtà ci si domanda quindi questa inferiorità femminile è una cosa di campato in aria oppure ha delle basi biologiche e da che cosa deriva questa sensazione di negatività di differenza che ci siano delle differenze è chiaramente ovvio basta guardare il fisico maschile femminile sono due sessi con due caratteristiche anatomiche ben diverse perché svolgono funzioni anatomicamente diverse nel processo della riproduzione che ci siano differenze anche nel tipo di comportamenti e di atteggiamenti è cultura popolare tant'è vero che esiste in internet questa specie di vignetta in cui si vedono come il cervello maschile quello femminile siano molto diversi in quanto a gusti e in quanto comportamenti queste differenze supposte sono vere o sono finte sono legate alla biologia oppure sono legate alla cultura parliamo domandiamoci se sono di tipo biologico e per farlo consideriamo l'evoluzione voi sapete che l'evoluzione quel processo per cui delle specie vengono selezionate e viene selezionato gli individui che sono più adatti i cosiddetti più forti in realtà questa è una visione un po' limitata perché l'evoluzione è sì la sopravvivenza del più forte ma in realtà è la sopravvivenza di chi si riproduce di più noi in fondo oggi quelli viventi oggi sono il prodotto di ininterrotti atti riproduttivi andati a buon fine e questo ci dice anche che il processo evolutivo non è stato solo la selezione dei più adatti ma è stata la selezione di quelle caratteristiche riproduttive che meglio assicuravano la riproduzione quindi la trasmissione della vita su questo puntualizzando su questo aspetto quindi delle caratteristiche che hanno permesso la riproduzione consideriamo quello che noi siamo noi siamo organismi pluricellulari amnioti mammiferi placentati e siamo una specie ad alta socialità con grandi capacità cognitive siamo organismi pluricellulari perché nel lontanissimo nostro passato le femmine si sono fatto carico di inventare un uovo estremamente grande pieno di riserve che consentiva di fare uno sviluppo embrionale e questo portava all'evoluzione appunto degli organismi pluricellulari siamo amnioti cioè siamo riusciti ad avere un uovo che ha consentito di acquisire di entrare nell'ambiente terrestre perché le femmine appunto si sono fatte carico di fare un uovo che permetteva di sviluppare l'embrione anche in un ambiente non acquoso siamo mammiferi e questo sappiamo perché nel corso dell'evoluzione le femmine si sono fatte carico di evolvere un liquido nutritivo con cui potevano nutrire un embrione che nasceva abbastanza immaturo che non sarebbe stato in grado di nutrirsi da solo siamo placentati perché le femmine si sono fatte carico di nutrire col proprio corpo il frutto della fecondazione cosa facevano nel frattempo i maschi le femmine come abbiamo visto hanno modificato il loro strutture corporee e il loro gameti per migliorare il processo riproduttivo i maschi questi qui in basso sono gli spermatozoi di pesci questi sono spermatozoi di rane rettili uccelli e questi sono gli spermatozoi di mammiferi come vedete non è che sia cambiato molto questa differenza questa diciamo figura ve la faccio vedere non pertanto convincervi che questi i maschi sono dei fossili viventi ma per indicarvi un'altra cosa e quello che ha portato questo processo di evoluzione è che i maschi hanno continuato a produrre un numero enorme di spermatozoi mentre le femmine a causa del fatto di dover fare delle uova più grandi e quindi più costose il fatto di fare del di dovere nutrire quindi perdita di tempo per la nutrizione di portare un embrione in grembo in realtà si sono ridotte a produrre un numero di uova limitatissimo rispetto a quello degli spermatozoi questo ha cambiato dei ha determinato dei cambiamenti nelle strategie riproduttive mentre i maschi tramandano il proprio dna in funzione di quante volte si accoppiano quindi investono sulla riproduzione le femmine non producono un numero di figli in funzione di quanto si accoppiano perché hanno a disposizione pochissime uova quindi dal punto di vista riproduttivo alle femmine non dipende da quanto si accoppiano ma dipende la loro capacità di tramandare il proprio dna da quanto si prendono cura di quella poca prole che fanno a conseguenze questo su quella figurina di cui si diceva di comportamento e abbiamo detto che i maschi tramandano il proprio dna in funzione di quanto si accoppiano quindi del quanto sesso fanno le femmine invece non tanto e quindi questo giustifica questa burlona idea delle femmine che quando c'è da far sesso dicono che hanno mal di testa e anche il fatto che se devono prendere l'iniziativa sessuale ne hanno molto meno quello che dicevo anche delle altre conseguenze come dicevamo i maschi producono moltissimi spermatozoi si è fatto un conto che gli spermatozoi prodotti nella propria vita da un maschio umano e sono sufficienti a fecondare metà della popolazione femminile oggi esistente sulla faccia della terra l'altra metà viene fecondata dal secondo maschio il terzo si ritrova a secco e quindi i maschi per poter esercitare questa loro possibilità di tramandare il proprio dna devono competere fra di loro questo determina una competizione con una struttura di tipo a piramide in cui si ha un processo di competizione che determina il famoso maschio alfa quindi la strategia riproduttiva maschile è quella di tipo antagonista che porta a una struttura verticistica con a capo un maschio alfa ha qualcosa che fare questo con il nostro schemino sport in fondo lo sport è un comportamento estremamente competitivo verso il quale i maschi sono molto portati motori motori potori anche in questo caso esiste una grande competizione e questo giustifica quindi il l'atteggiamento di cui vi dicevo e come vedete anche archivio donne conquistate perché se si fa questa competizione la si fa per riuscire a conquistare femmine e c'è di se ne vanta anche cosa succede invece alle femmine le femmine come abbiamo detto hanno fanno pochissime uova e quindi se vogliono tramandare il proprio dna si devono prendere cura della prole in situazioni difficili questo viene favorito dal fatto di formare un legame con la propria prole quindi si forma una relazione i figli sui pezze core e questo spinge le femmine ad avere un comportamento altruistico di sacrificio verso i propri figli e in queste in situazioni difficili come dicevo le femmine tendono anche a mettere insieme le forze per riuscire insieme a far sopravvivere più figli possibili del proprio gruppo quindi la strategia riproduttiva femminile non è quella di competere le le femmine con le altre quando piuttosto di collaborare per poter far sopravvivere quanto più figli possibile a conseguenze questo sul nostro piccolo schemino le femmine non si vantano dei maschi conquistati ma piuttosto ricordano anniversari i compleanni proprio a indicare questo loro atteggiamento di cura e di amore di propensione alla cura verso i propri figli e il proprio entourage familiare come vi dicevo gli ambienti difficili tendono a rendere molto più difficoltoso per le femmine a riuscire a far sopravvivere la propria prole e questo nel corso dell'evoluzione ha fatto sì che se si avesse un allargamento della quantità di individui coinvolti nella cura della prole però per poter accudire una prole che coinvolge un sacrificio un altruismo a volte addirittura un sacrificio della vita bisogna che si sviluppino molto i legami di cooperazione e calino molto i legami invece di eh competizione di aggressività fra eh gli individui di un gruppo. Nel caso dei nostri antenati l'allargamento eh dei gruppi familiari è eh eh un ha richiesto sia l'evoluzione di eh sentimenti di eh connessioni nervose che favorivano l'aggregazione e ehm l'associazione ma anche la riduzione dell'aggressività e della competizione. Come abbiamo detto la competizione è eminentemente per le femmine. Quindi eh sono evoluti dei meccanismi per cercare di ridurre gli stimoli che spingono i maschi a competere per acquisire i favori delle femmine. Queste eh sono delle immagini di gorilla e di scimpanzè che mostrano come eh questi eh primati siano eh dotati di eh denti oltre altre strutture anatomiche che favoriscono la competizione. Competono, lottano fra di loro per la conquista delle femmine. Quello che invece vedete ehm accanto è il teschio di un Ardipithecus ramidus, un nostro antenato di circa quattro milioni di anni fa. Come potete vedere già quattro milioni di anni fa eh la dentatura di questi nostri antenati eh non era così aggressiva, dimostrazione che noi siamo una specie eh sociale o presociale più correttamente da molto tempo, il che vuol dire che da molto tempo sono stati inventati dei meccanismi per ridurre l'aggressività fra maschi all'interno di un gruppo. In che modo? Questo è uno degli stimoli con cui le femmine cercano di attirare ehm i favori dei maschi. I maschi quando le femmine sono in calore competono fra di loro. Questo meccanismo è un meccanismo che fa selezionare i maschi migliori, quindi le femmine in un qualche modo stimolano la selezione del maschio migliore con cui potersi accoppiare. Questi sono, questo è una femmina del quell'Ardipithecus ramidus di cui si diceva che eh eh sono a nostri antenati che erano già bipedi, quindi già in una ehm diciamo ehm disposizione anatomica in cui eh i genitali esterni erano pochi evidenti. Questi sono dei bonobo che eh sono anche questi dei primati che hanno anche questi delle società in cui l'aggressività fra maschi è molto ridotta. Anche in questo caso come vedete i genitali esterni sono molto meno evidenti in modo da non stimolare l'aggressività dei maschi. Un'altra caratteristica è sia dei bonobo che della nostra e dei nostri antenati è la costante disponibilità sessuale. Eh tutti noi abbiamo un cane e sappiamo che i cani ehm o anche i gatti vanno in calore uno o due volte all'anno, quindi sono le femmine sono disponibili solo in ridotti momenti. In questo momento i massi si scatenano. Invece sia nei bonobo che nei nostri eh nelle nostre antenate c'è stata questa mh disponibilità ad avere rapporti sessuali costantemente anche quando le femmine non sono in calore. Noi sappiamo che il sesso distende del nervo e questo riduce la competizione fra maschi e quindi facilita la eh la costituzione di gruppi sociali molto ampi. La costante disponibilità sessuale che risale già probabilmente a molti milioni di anni fa ha introdotto una caratteristica che ehm ci riguarda anche oggi che è il distinguere il sesso in sesso riproduttivo che è quello che serve appunto per eh tramandare il proprio DNA ma anche il sesso ricreativo che è quello che invece serve eh che viene fatto non quando le femmine sono in calore ma durante il resto del ciclo e che serve a eh distendere il nervo rilassare eh rendere più pacifica la comunità. Questi sono eh dei bonobo eh che vivono in una eh condizione in cui eh hanno una società eh molto tranquilla ehm rilassata sono detti le scimmie e dell'amore e ehm con quindi un'aggressività e una stabilità molto bassa e una stabilità sociale molto alta. Qui abbiamo detto quindi socialità ma eh l'altra nostra caratteristica è quella invece di avere un'enorme capacità cranica. Eh da dove deriva questa capacità cranica? Da questo eh aumento delle dimensioni del cervello. Eh per anni si è detto che era dovuta al fatto che l'uomo aveva le mani con queste poteva eh anzi era bipede aveva le mani disponibili e quindi poteva ehm lavorare eh strumenti e quindi questo l'avrebbe reso più intelligente. Eh alla prova dei fatti questo non sembra sia una ipotesi eh percorribile. E sta sono stati fatti degli studi per capire quali fossero altri animali che avevano un cervello molto sviluppato. Ed è il risultato che gli animali che hanno il cervello più sviluppato eh oltre a altri primati oltre notoriamente ai delfini sono i corvidi. Eh cosa hanno di ehm particolare questi eh animali? Sono degli animali che eh vivono in socialità. Quindi sono delle specie sociali. Eh quindi l'idea che il cervello non sia dovuto l'aumento delle dimensioni del cervello non sia dovuto alla manualità ma alla socialità è quello che fa ritenere appunto oggi che eh queste capacità cognitive si possono più correttamente chiamare capacità socio-cognitive. Il discorso è sempre quello. Per poter coesistere bisogna aumentare i legami e la cooperazione bisogna fare diminuire l'aggressività. Quindi tutta l'evoluzione del cervello è finalizzata a questa. A produrre dei circuiti nervosi che favoriscono eh l'interazione, i rapporti fra gli individui ma perché si abbiano rapporti fra individui che prevedono eh l'altruismo, il sacrificio, bisogna anche essere in grado di valutare che questo sacrificio non vadano eh non siano sfruttati da qualcuno. Quindi è richiesta la cosiddetta giustizia. Io sono disposto a sacrificarmi se c'è della giustizia. Se invece io mi sacrifico ehm per dare soltanto del favorire qualcuno senza averne dei vantaggi chiaramente la cosa sarebbe caduta. L'evoluzione delle capacità cognitive di cui qui ho messo con un piccolo elenco mostra come eh siano coinvolte, siano state prodotte aree della memoria. Bisogna che io ricordi cosa ho fatto e cosa hanno fatto gli altri. L'individuazione delle cause, che io capisca chi ha fatto cosa, relazione dei fenomeni, i vantaggi che ho avuto, quelli che non ho avuto, capacità di ingannare chi cerca di fregarmi, capacità di sgamare chi mi vuole fregare e così via. Quindi alla luce di tutto questo è risultato evidente come siano proprio le interazioni sociali quelle che hanno favorito l'evoluzione del cervello. Si diceva una di queste capacità è quella di sgamare. Chi cerca di fregare? O meglio, chi cerca di avvantaggiarsi? Eminentemente quelli che cercano di avvantaggiarmi sono i maschi. I maschi, come abbiamo detto, producono un numero enorme di spermatozoi che devono piazzare sulle poche femmine. Quindi hanno dei circuiti nervosi di venditori, sono dei fantastici piazzisti. Tutti i corteggiamenti in realtà, se vogliamo guardarli dal punto di vista così economico, sono dei meccanismi con cui i maschi cercano di convincere le femmine delle loro doti, delle loro capacità, del loro futuro appoggio alle femmine stesse. Le femmine hanno quelle poche uova, il loro destino dipende da quelle poche uova, quindi devono assicurarsi che sia vero e quindi sono degli ottimi ufficio acquisti. Quindi cercano di capire la veridicità o meno di queste promesse maschili. Tornando al nostro piccolo schema, le femmine parlano, parlano, parlano. Hanno il centro di controllo dei pettegolezzi, perché? Perché parlando, parlando fra di loro, acquisendo informazioni alla faccia della privacy, riescono a capire cosa c'è di vero in quello che viene raccontato, a capire il valore dei maschi con cui hanno a che fare, quindi riescono più correttamente a fare delle scelte. I maschi invece hanno la ghiandola di quello che cerca di dire, ma sì, forse mi sono sbagliato, ma no. E quindi continuano, anche dal punto di vista della sincerità, sono un po' carenti. La ghiandola della sincerità è molto modesta. Anche in questo caso, generatore di scuse, comprensibilmente fase. Questo schema è uno schema che non ho fatto io, come vi dicevo, è uno schema che gira su internet per rappresentare quelle che vengono considerate le caratteristiche maschili e femminili. Ci si chiedeva se avevano una base biologica e sto cercando di mostrarvi che una base biologica c'è e dà un suo senso evolutivo. Le femmine, si sa, sono delle rompiscatole, sempre saccenti, te l'avevo detto. Quindi, eccoci qua. Abbiamo questi grandi cervelli legati alla socialità che ha prodotto le nostre capacità sociocognitive. Se si va a guardare nei gruppi animali le dimensioni della neocorteccia, questi sono tutti i primati, si vede come queste dimensioni dipendano soprattutto da quando è subfrazionato il gruppo. Quanti più il gruppo è formato da piccoli gruppetti familiari che interagiscono fra di loro, che interagiscono con i gruppi dei vicini, tanto più aumenta la dimensione della corteccia e le capacità cognitive. Questo ha un senso perché è chiaro che quanto più relazioni si hanno, tanto più è necessario avere dei circuiti che determinano comportamenti diversi a seconda di con chi si ha a che fare. Questo è ancora una volta, come vedete, un meccanismo che ha a che fare con la strategia riproduttiva femminile. Infatti si dice, ed è provato, che l'evoluzione della corteccia cerebrale è legata alle strategie femminili riproduttive. Ancora una volta legami, cooperazione, aggressività a calare. Questa ridotta competitività fra i maschi però ha portato alcuni problemi, perché mentre i maschi che competono fra di loro in un qualche modo autoselezionano il vincente, il maschio alfa, e quindi le femmine che si accoppiano col maschio alfa sono sicure di avere il miglior DNA possibile sulla piazza, la ridotta competizione fra maschi rende necessario per le femmine andare alla ricerca del partner, quello che potrebbe avere il DNA migliore. Non è così evidente. E le femmine lo fanno avendo messo insieme dei meccanismi col quale andare a valutare le qualità genetiche, il valore relazionale, cioè la capacità di essere disponibile e lo stato sociale dei maschi, trovando in questo quelle caratteristiche che meglio possono assicurare poi la sopravvivenza alla propria prova. Qualità quali? Ad esempio, i meccanismi per cui i maschi si tatuano sono dei meccanismi con cui dimostrano in un qualche modo la loro capacità a soffrire al dolore, anche gli ornamenti che in alcune tribù si hanno, sono in fondo dei simboli anche questi che dimostrano come questi maschi sono in grado di procurarsi del cibo per le femmine. Quindi sono tutti dei segnali che indicano una qualità genetica e un valore relazionale, cioè qualcuno che riesce con i propri metodi ad acquisire delle posizioni che permetteranno poi di assicurare alla prole le loro stesse qualità genetiche, quindi le femmine avranno dei figli con queste ottime qualità. Questo è una rappresentazione di quello che le femmine cercano negli uomini e quello che gli uomini cercano nelle femmine. Le femmine infatti cercano lo stato sociale, quindi una posizione sociale che assicuri una sicurezza, una stabilità nella carriera, giusto appunto, la stessa cosa. I maschi guardano all'aspetto, come le femmine se la cavano a letto. Tornando al nostro piccolo schema, abbiamo questo giallo qua in alto, senso di attrazione verso loro. Le femmine si dice sono attratti verso i valori. I valori, certo, perché i valori sono quelli che rappresentano la sicurezza per la propria prole. Valori, ghiandola di attrazioni per i diamanti, come diceva giustamente Marilyn Monroe, diamonds are a girl's best friend. Eccoci qua, le femmine cercano posizione sicurezza economica. Ma è evidente che se esiste un maschio che attira verso di sé tutte le femmine, tutto quel lavoro che era stato fatto per riuscire a ridurre la competizione fra i maschi viene a valificarsi. Per cui nel corso dell'evoluzione i maschi hanno cercato di tagliare le perdite, cercando appunto di mitigare questa tendenza che avrebbe portato ad avere un maschio comunque dominante. E l'hanno fatto inventando la monogamia. La monogamia è quel meccanismo per cui appunto un maschio si lega a una unica femmina e questo processo è un processo che è sostenuto dall'evoluzione di sentimenti che spingono alla costruzione di questo legame e al mantenimento di questo legame. La monogamia noi la pensiamo come una cosa culturale di sentimenti, in realtà la monogamia ha una base genetica, si conoscono in alcuni animali addirittura i pezzetti di DNA che determinano il comportamento monogamico. L'innamoramento, come vi dicevo, è un meccanismo per cui si cerca di ottenebrare il cervello dei maschi e delle femmine in modo da non fare percepire la limitatezza del partner, perché se non si percepisse la limitatezza del partner tutti cercherebbero il meglio. Invece con l'innamoramento si riesce a riprodurre anche individui maschi e femmina di prima, seconda, terza fila. Quindi non importa essere Marilyn Monroe, anche io ho trovato un marito. La monogamia si diceva. La monogamia negli uccelli è molto frequente, si ritiene che il 90% degli uccelli siano monogami e solo il 10% siano poligami. Fra i mammiferi è molto più ridotta, soltanto il 10% sono monogami. In realtà se si va a guardare la monogamia degli uccelli ci si accorge di come di quel 90% che sono monogami, in realtà solo il 90% sono veramente monogami. Se poi si va a guardare di quel 10% che rimangono, un 10-11% dei figli di quel 10% monogami, sono di un padre diverso e quindi alla fine di veri monogami ce ne sono l'8%. Per quale motivo? Perché nel momento in cui si ha la monogamia, l'attaccare il proprio carro a un cavallo con capacità limitate tende a ridurre le potenzialità riproduttive sia della femmina che del maschio. Per poter ampliare le proprie possibilità di avere dei figli, se si è beccato quello un po' scarso, che siano migliori, è chiaro che l'unica strategia possibile è il tradimento che è prevista geneticamente. La nostra monogamia è una monogamia in realtà che non è una monogamia, appartiene appunto a questo discorso, perché in realtà è geneticamente più una poligamia seriale, si è monogami per un po', se poi il compagno a cui ci si è legati non supera quelle caratteristiche che possono continuare a ritenerlo valido per la propria capacità riproduttive, si passa a un altro. Che noi siamo, che non siamo realtà dei monogami è dimostrato anche dalle dimensioni dei testicoli. Le specie che sono veramente monogami, i maschi, in queste specie hanno i testicoli molto piccoli, perché in realtà sono sufficienti pochi spermatozoi per trasferire il proprio DNA al partner. Nelle specie invece in cui c'è una promiscuità enorme e le femmine si accoppiano con molti maschi, è chiaro che bisogna avere dei testicoli molto grandi per trasmettere molto seme, molto spermatozoi per competere con gli spermatozoi che le femmine hanno beccato da qualche altro maschio. Nel caso dell'uomo, gli testicoli umani sono di una dimensione intermedia, il che dimostra come noi in realtà siamo una specie monogama un po'. Questo è i nostri antenati. I nostri antenati circa dieci mila anni fa erano così, cacciatori e raccoglitori nomadi, con già tutte quelle caratteristiche sia di, soprattutto di comportamento, stiamo parlando dei comportamenti, e questo si traduceva in un tipo di società a ritorno immediato, ricchezza relazionale al multilocalismo. cosa significa? Ritorno immediato significa che non avevano il frigorifero. Non avendo il frigorifero non potevano conservare gli alimenti e quindi tutte le volte che acquisivano delle risorse superiori a quelle delle necessità familiari, le condividevano. Questo condividere generava una richiesta relazionale. Quanto più uno condivideva, tanto più aveva amici, quanto più si fosse trovati in difficoltà, tanto più gli altri gli avrebbero dato una mano. Multilocalismo, questi erano nomadi e quindi si spostavano e accettavano nel loro muoversi anche individui che venivano da altri gruppi sociali. I rapporti fra maschi e femmine erano chiaramente diversi, perché anatomicamente e come abbiamo visto psicologicamente gli atteggiamenti sono diversi, però erano di mutua collaborazione per il bene della riproduzione che è poi il fine della vita. Come siamo arrivati a questo? Da quei momenti che abbiamo visto, che si sono verificati 10.000, 9.000, 8.000 anni fa, a quello che è successo dopo, non ci può essere stata della genetica, non ci può essere stata della natura, della biologia, perché i DNA non evolve così velocemente. Quindi il passaggio da quel tipo di società a quella che abbiamo visto non può essere che culturale. Abbiamo detto che erano calciatori e raccoglitori nomadi con queste loro caratteristiche. Cosa è successo in questi anni? Quello che è successo è stato il passaggio da calciatori e raccoglitori a allivatori e coltivatori stanziali. Cosa è cambiato? Il ritorno che era immediato è diventato ritorno di ferito. Vi dicevo, il ritorno immediato è perché non avevano il frigorifero, ma gli allevatori e i coltivatori in qualche modo il frigorifero ce l'hanno, perché coltivano alimenti, le granaglie che possono essere conservate. Conservate per quale motivo io le devo regalare a qualcuno se posso usarle io in futuro? Questo fa diminuire anche il concetto di richiesta relazionale, perché il mio valore non è quanto più io sono generoso, ma quanti più granaglie, terreno possiedo per produrre quelle granaglie. Non c'è più un multilocalismo perché per coltivare si diventa stanziali, sono soprattutto i maschi quelli che coltivano la terra e quindi si ha il cosiddetto patrilocalismo. Quindi a questo punto un concetto vorrei introdurvi che la struttura sociale, che in qualche modo ho raccontato così un po' rapidamente, è una caratteristica delle specie. Noi abbiamo una struttura sociale fatta in un certo modo, i cani hanno una struttura sociale fatta in un certo modo, i gatti hanno una struttura pseudo sociale fatta in un altro modo. Quindi la struttura sociale di una specie è un fenomeno biologico ed è l'ambiente, il tipo di ambiente in cui si vive, quello che decide, quella che sarà la struttura sociale che come abbiamo detto sarà sempre quella che è più vantaggiosa per la riproduzione. Questi erano i cacciatori raccoglitori, questi sono i contadini. È evidente che è cambiato l'ambiente, quindi è evidente che deve essere cambiata anche la struttura sociale. Mentre le specie, qui parlo biologicamente, non solo l'uomo, ma biologicamente, le specie che hanno scarse saltuari e disponibilità del cibo hanno dei costi di produzione degli individui che costano moltissimo, perché per far crescere un individuo devono investire moltissimo essendo la disponibilità del cibo molto scarsa. Quindi gli individui hanno molto valore, perché sono costati molto alla collettività. Le femmine che producono gli individui hanno molto valore. Quindi la strategia riproduttiva femminile è quella che si dà una mano per far sopravvivere la poca prole. Invece le specie che hanno a disposizione grande e continue disponibilità del cibo portare a maturità un individuo costa poco, c'è un sacco di cibo in giro, gli individui hanno poco valore e le femmine che producono quegli individui hanno poco valore. Questa è la classica strategia in cui gli individui in basso hanno pochissimo valore, quello che si conta è anche distruggere gli inferiori per arrivare alla fetta. Questa è la struttura sociale che comincia dall'agricoltura. Come vedete l'agricoltura ha determinato la comparsa di una struttura sociale verticistica. Quindi si è passata dalla struttura sociale in cui le femmine valevano molto dei cacciatori e raccoglitori a quella invece maschile verticistica degli agricoltori. Su questo si è innettato un ulteriore grosso problema, che è quello che nelle società dei cacciatori e raccoglitori il procacciarsi il cibo era un lavoro di tutti. I cacciatori erano soprattutto i maschi, anche se le piccole prede le prendevano anche le femmine. I raccoglitori erano le femmine. Si è fatto un conto che la quantità di risorse alimentari che vengono portate a casa, diciamo, dei cacciatori e raccoglitori è per una percentuale di circa il 65% portato dalle femmine. I maschi cacciatori ne portano molto meno, anche perché notoriamente la caccia è un po' aleatoria, con gli strumenti che c'erano a quei tempi ancora di più. Quindi nelle società di cacciatori e raccoglitori le femmine avevano una indipendenza economica. Nel momento in cui si va nella coltivazione, quindi nell'agricoltura, dato che lavorare la terra è faticoso, quello che era la raccolta, quindi il recupero di risorse vegetali viene fatto dagli uomini. Quindi viene tolta alle femmine la loro indipendenza economica. Le femmine dipendono economicamente dai maschi, non sono più libere di decidere i propri comportamenti, compresa la propria riproduzione. Quindi le femmine diventano un oggetto, uno strumento riproduttivo usato dalla famiglia per tramandare il proprio DNA, perché è la famiglia, il padre, quello che detiene i beni, detiene il potere anche sulle figlie. Questo è tipico matrimonio indiano in cui, dato che a casare una figlia si cerca sempre di farla casare in una, possibilmente con un uomo benestante, perché facendola casare con un uomo benestante è più probabile che il DNA della famiglia venga tramandato, perché l'uomo benestante darà sicurezza economica a quella figlia, si paga perché la figlia venga sposata. Quindi si dà la dote al futuro marito, che era poi quello che succedeva anche qui da noi a dire il vero. In alcune culture per accasare le femmine, le figlie, dato che i benestanti sono pochi e potrebbero scegliere qualche d'un altro, si fanno dei contratti in modo da offrirgli la femmina quando è ancora piccola, giovane. Quindi i famosi spose bambine che hanno sempre ancora questo significato di accasare il DNA familiare offrendo le femmine a maschi di levatura sociale maggiore. abbiamo detto quindi le femmine a questo punto passano al maschio, al marito, all'uomo e diventano uno strumento riproduttivo. Il maschio, a questo punto marito, deve allevare, lavorando, i figli e vuole essere sicuro che siano propri. Quindi esercita già il concetto di verginità, la femmina non deve essere stata di nessun altro, in più esercitano un forte controllo sulla moralità delle femmine e sulla regolamentazione proprio del comportamento sessuale femminile. Moralità delle femmine che viene negata alla loro individualità, addirittura il loro corpo, regolamentazione del comportamento femminile. Questa è una lapidazione. Se ricordate avevamo detto che le femmine nel lontano passato della nostra specie avevano inventato la disponibilità sessuale per riuscire a tenere insieme i maschi e come è diventato questo, questa nuova società. Il sesso riproduttivo è la moglie, le mogli sono tutte sante, il sesso ricreativo è mercificato, considerato malamente e le femmine che vengono usate a questo fine e le femmine sono considerate delle puttane. Vi ricordo che erano tutti meccanismi per il bene della riproduzione della specie. E' così anche adesso. Eccoci qua, questo è il vendere, il comprare le femmine per il proprio intrattenimento. La cultura quindi. Però, quando noi diciamo cultura, noi pensiamo che la cultura sia un qualcosa di totalmente separato dalla natura, dalla biologia. In realtà la cultura è uno strumento biologico evolutivo, anch'esso finalizzato alla sopravvivenza e alla riproduzione. In fondo cos'è la cultura? E' lo strumento di quel cervello che è stato costruito. Perché è stato costruito quel cervello così complesso? Per adattarsi sempre meglio all'ambiente, per non avere delle risposte all'ambiente di tipo stereotipato, ma per avere degli strumenti che consentissero di, cambiato l'ambiente, adattarsi. Bene, la cultura è il frutto di questo cervello, e quindi un meccanismo che permette di adattarsi all'ambiente. Anche la cultura si evolve come si evolve la biologia. Nel caso della cultura, invece di avere i geni, abbiamo i cosiddetti memi, che sono delle caratteristiche culturali vantaggiose che tramandiamo di generazione in generazione. La cultura, questo tipo di cultura, quella che abbiamo visto così nefasta per le femmine, in realtà è stata vantaggiosissima per la specie, perché all'inizio della rivoluzione agricola c'erano 6 milioni di Homo sapiens, adesso siamo 7 milioni e mezzo, forse ormai siamo già anche 8. Quindi questa cultura così negativa nei confronti delle femmine, in realtà dal punto di vista della specie, è stata vantaggiosissima. È la cultura in cui le femmine sono produttrici di manovalanza a basso costo in tempi di pace, sono produttrici di carne da cannone in tempo di guerra. Ma abbiamo detto che la cultura è uno strumento biologico che si adatta all'ambiente per favorire la sopravvivenza. La prima guerra mondiale è stato un momento in cui, con tutti gli uomini al fronte, le donne sono rientrate nella linea produttiva. Nella seconda guerra mondiale ancora di più. A causa di questi stravolgimenti dovuti al tipo di atteggiamento maschile, aggressivo, verticistico, homo alfa e tutto quello che volete, le donne sono rientrate nell'economia. Le donne hanno riacquistato l'indipendenza economica. Hanno riacquistato il potere di decidere dei propri corpi, dei propri comportamenti e della propria riproduzione. eccole qua, le ragazze anni 50 che cominciano di nuovo a spogliare il loro corpo, a divertirsi, a controllare la propria riproduzione. Certo, il cambiamento non è indolore. Questo è uno dei prodotti adesso di questo rettaggio di monogamia. In realtà anche questo che noi vediamo è un prodotto di quella biologia di cui si diceva. Perché in realtà il modo con cui i maschi e le femmine vivono la monogamia è molto diverso, legato proprio al tipo di struttura cerebrale diversa ai loro comportamenti. In condizioni di stress la risposta maschi e femmine a un legame monogamo è molto diversa. Le femmine che devono far sopravvivere i propri figli, quel poco di figli che hanno, in un momento di stress si rendono conto di come un maschio non sia più quello che li può aiutare. Quindi le femmine in condizioni di stress abbandonano il maschio. È biologia, è un meccanismo fatto appositamente per salvaguardare il futuro della nostra specie. Nel caso dei maschi invece, in una società così competitiva, la monogamia è un modo di accappararsi una femmina. È chiaro che in condizioni di stress un maschio non va a cercarne delle altre perché vuol dire che ha già delle difficoltà a tenere la propria e quindi si attacca sempre di più a quella. Quindi in condizioni di stress si ha un aumento da parte dei maschi dello stalking, della violenza verso le femmine non riuscendo che l'abbandono della femmina, la rivolta della femmina verso di loro rappresenta una dimostrazione della loro incapacità, delle loro limitatezze quindi chiaramente viene affrontata in questo modo. Eccoci qua. Natura, cultura. Come vi ho detto la natura usa la cultura. Ma la natura abbiamo detto che fa di tutto per diventare immortale, per tramandare sempre di più se stessa. La vita cerca di tramandare. È chiaro che davanti a situazioni come queste in cui il tipo di società maschile che abbiamo alle spalle e al presente sta distruggendo, ormai ha distrutto tutte le risorse del nostro pianeta. Il tipo di società, gestione maschile sta generando dolore, sofferenze e guerre. Forse la cultura cambia e ci dice che è ora di cambiare. Io sono arrivato alla fine di questa mia presentazione, se qualcuno volesse saperne di più e approfondire il discorso questo è un libro che ho pubblicato qualche anno fa e grazie a tutti per la vostra attenzione. Adesso cerco di tornare. Ok, eccomi qua. Grazie Bruna per l'esposizione. Adesso passiamo alle domande. Qualcosa è già stato posto, quindi comincio a leggere. Francesco Donini, intanto fa i complimenti, dice che è interessante questa visione della crescente oggettificazione della figura femminile e poi chiede, secondo lei come mai una cultura che si è evoluta in maniera tale da non dover essere più necessaria una così forte oggettificazione e sfruttamento della donna è ancora così difficile decostruire e liberarsi da questi meccanismi? Allora, è chiaro che ormai la struttura sociale che è stata costruita è estremamente complessa quindi quando si costruisce qualcosa che funziona e che è complesso è molto difficile riuscire a tornare indietro in liberarsi, diciamo che esiste anche due componenti una che dal punto di vista maschile è un meccanismo che avvantaggia i maschi spesso nell'ambito femminista si dice ma perché le donne non si ribellano in realtà, come vi dicevo, le donne si trovano spesso in certi tipi di società legate al fatto che loro devono fare sopravvivere i propri figli quindi è chiaro che se una donna singola si ribella a parte che muore lei anche i suoi figli non sopravvivono sicuramente quindi o si verificano delle situazioni molto ampie in cui non si ha l'individuo ma si ha una coralità come si è verificato nel caso delle guerre mondiali anche prima c'era del femminismo, anche prima c'era una rivolta femminile ma i risultati sono stati molto limitati in confronto al grande accelerazione che si è avuto con le guerre mondiali proprio perché è stato dare potere in un colpo solo a tantissime donne, a quel punto era difficile riuscire a fermare in questo momento in cui risulta evidente come questo tipo di società gestita in questo modo ci sta portando alla distruzione, le femmine hanno forse più coraggio forse i maschi hanno anche più consapevolezza che le femmine sono una risorsa e quindi forse si sta tornando a quell'equilibrio di caratteristiche diverse che hanno i maschi e le femmine e che collaborano insieme per il bene di tutti quanti quindi io sono confidente, confidando sul raffiocinio ma anche sulla biologia che ci dice che in situazioni così conviene Benissimo, adesso passo alla domanda di Luca Bonisoli che ci chiede come si è arrivati a conoscere così bene le dinamiche dei nostri antenati pre-sapiens quali strumenti vengono utilizzati? Allora, molto viene fatto ovviamente sugli scheletri, sulle ossa che danno molte indicazioni si comincia anche a fare molti chiarimenti con la biologia molecolare e la genetica che permettono di andare a verificare l'evoluzione di geni pian piano si sta sempre più cominciando a definire il coinvolgimento dei geni in tanti comportamenti quindi fino a un certo punto si può cominciare già a utilizzare la biologia molecolare in tante altre condizioni si valutano agli altri primati quindi per comparazione, tipo anatomia comparata si associa a un certo tipo di struttura anatomica con certi tipi di comportamenti e questo ha permesso di andare a definire man mano quali fossero le caratteristiche dei nostri antenati oltre che ovviamente anche i reperti di strumentali che cominciavano a produrre dall'uomo eretto col fuoco e quindi cambiamenti evolutivi nell'alimentazione cioè esistono tutta una serie di parametrature che consentono di avere un'idea di quella che è stata l'evoluzione non solo anatomica ma anche comportamentale legata a questo perché se uno non ha i denti incisivi sviluppati significa qualcosa o se ce li ha significa qualcos'altro se ha dei certi denti per la masticazione fatti in un certo modo significa un certo tipo di alimento quell'alimento è associato a un certo tipo di comportamenti e così via Benissimo Passiamo ora alla domanda del nostro Enrico Matacena che chiede come si spiegano quei rari casi, fenomeni di poliandria in questa costruzione come si inserisce come dicevo il meccanismo è sempre quello nel caso di a seconda degli ambienti si sceglie la strategia riproduttiva più adatta in certe situazioni le femmine hanno evidentemente la convenienza a avere a disposizione più DNA diverso quindi diversificare le caratteristiche genetiche della propria prole accoppiandosi con molti maschi possono avere dei figli con delle caratteristiche genetiche molto diverse quindi più adattabili all'ambiente ad esempio come i gatti le gatte si accoppiano con molti gatti e tant'è vero che dei gattini che nascono alcuni sono figli di uno, figli dell'altro perché all'interno del loro utero hanno gli spermatozoi di tutti e quindi possono avere una variabilità di figli con caratteristiche molto diverse che permettono di adattarli all'ambiente ogni specie è un po' fatta a modo suo ogni ambiente si selezionano anche dei comportamenti in base all'ambiente in cui ci si trova Benissimo, passiamo ora alla domanda di Enrica Brasselli Allora, all'interno di un fenomeno sociale molto attuale soprattutto maschile come quelli dell'Incel che sono i celebri non per loro scelta circano teorie estremamente complesse sulle caratteristiche morfologiche, facciali, scheletriche degli uomini che hanno successo con le donne i cosiddetti Chad che immagino sia l'equivalente degli uomini alfa e degli individui che invece non ne hanno Incel che hanno dato origine a questi modelli Conosce teorie simili? Ci sono parametri anatomici e oggettivi che oggi vengono considerati? Poi dopo inizia la domanda Allora, sono sempre esistiti dei parametri di bellezza La bellezza, che noi riteniamo una caratteristica spirituale in realtà è uno strumento biologico ed è lo strumento che permette di selezionare tutto ciò che è vantaggioso per la sopravvivenza e per la riproduzione Quindi la bellezza con cui si selezionano i maschi o si selezionano le femmine ha delle caratteristiche di solito di tipo di vantaggiosità Nel caso dell'uomo, ad esempio maschi troppo maschili quindi la classica mascella da Marines non viene particolarmente apprezzata perché indica psicologicamente evidentemente sono anche le caratteristiche genetiche ormai da chissà da quanti milioni di anni viene associata a aggressività quindi a violenza anche nel confronto della femmina o nel confronto dei figli invece una maggiore femminatessa viene apprezzata perché questa rappresenta più una disponibilità a dare una mano alla femmina nella cura della prole quindi adesso io non sono particolarmente ferrata sulle caratteristiche di questi situazioni di questi in cell che tra l'altro non conoscevo neanche l'esistenza però esistono tutte delle sicuramente dietro a questo esiste delle caratteristiche in parte fissate geneticamente in parte fissate sicuramente anche dal punto di vista culturale perché anche la bellezza nella scelta femminile esistono dei parametri che sono costanti nella scelta delle femmine o nella scelta dei maschi poi esistono dei parametri culturali però come vi dicevo la cultura è uno strumento di adattamento all'ambiente quindi in certe situazioni è vantaggioso che le femmine abbiano certe caratteristiche in altre che ne abbiano altre e quindi esiste quella flessibilità di modulare il modello della bellezza parte genetico parte culturale sicuramente i meccanismi che portano alle scelte sono dei meccanismi tendenzialmente di tipo di selezione biologica ad esempio una parte della selezione viene anche fatta con l'odore si cerca un odore diverso dal proprio perché nelle molecole dell'odore ci sono dei componenti che hanno a che fare col sistema immunitario quindi quando si trova un partner che ha un sistema immunitario diverso dal proprio vuol dire che i figli avranno delle caratteristiche immunitarie sommate e quindi avranno maggiore resistenza a un più ampio spretto di patologie quindi esiste tutta una antica parametratura istintiva e un'ulteriore parametratura però sempre con lo stesso fine con cui si fanno le scelte se non ricordo male con Darwin si chiama selezione sessuale la selezione sessuale esatto tornando diciamo alle slide alla presentazione di prima possiamo dire visto che qua è indicato come Chad l'uomo che è successo con le donne che anche Berlusconi può essere molto bello in un contesto culturale diciamo che più che altro è in un contesto legato soprattutto al discorso della posizione sociale della sicurezza credevo che fossero delle scelte quello di cui si parlava prima di tipo anatomico quelle attribuite qua erano di tipo anatomico forse invece in maniera più ampia dal punto di vista diciamo che anche nella scelta biologica le femmine hanno una scelta biologica un po' diversa dai maschi perché le femmine tendono sempre a selezionare individui più maturi maschi tendono a selezionare femmine più giovani perché dato che la femmina umana ci mette molto tempo e fa pochi figli una femmina giovane ricordiamo sempre che l'aspettativa di vita dei nostri antenati fino ai primi del novecento era sui trent'anni l'aspettativa media di vita quindi una femmina riusciva a fare un po' di figli dopodiché moriva se invece la femmina scelta fosse stata già di una certa età i figli sarebbero stati molto pochi quindi i maschi cercano tendono a scegliere una femmina giovane invece le femmine cercano tendono a scegliere un maschio più avanzato di età perché ha già acquisito una posizione sociale che favorisce la sopravvivenza dei loro figli figli comuni poi anche quindi esistono insomma benissimo qua non vedo altre domande volevo chiedere io una cosa cosa ne pensavi una curiosità più che altro cioè ritornando al discorso che facevi sulla monogamia società agricola andando su quelli che sono i dieci comandamenti cioè il decimo comandamento che dice non tradire non desiderare la donna da altri in effetti non c'è scritto non desiderare l'uomo da altri anche se adesso cercano di aggiustarla per ovvi motivi mi chiedevo se poteva comunque avere una base biologica impostata in questa maniera nel senso che ho sempre pensato che l'uomo che desidera la donna da altri sta compiendo un furto cioè cercherà di far crescere la propria prole a un altro uomo e quindi ci sottrarà risorse la donna che desidera un uomo da altri ruba qualche spermatozoma ce ne sono tanti in fin dei conti non ruba niente a nessun'altra cosa ne pensi? in realtà diciamo le femmine rubando gli uomini da altri spesso e volentieri rubano delle risorse economiche infatti una cosa molto curiosa che mi ha sempre impressionato è l'atteggiamento che hanno i maschi e le femmine davanti al tradimento allora quando la femmina tradisce i maschi in questa società nostra monogama sentono il tradimento della femmina come un proprio sfruttamento la femmina ha avuto probabilmente forse non si sa dei figli da altri che loro si sono dovuti mantenere quindi immediatamente appena la femmina fa un tradimento qualunque cosa abbia fatto diventano aggressivi e non accettano le femmine sono abituate al tradimento perché sono tanti anche gli uomini sposati che hanno rapporti sessuali con prostitute e l'atteggiamento dei maschi di avere relazioni è notoriamente molto superiore a quello delle femmine le femmine tollerano moltissimo diciamo che le femmine cominciano a avere degli atteggiamenti negativi non quando il maschio le tradisce fisicamente facendo sesso con altre donne ma quando il maschio toglie risorse alla famiglia perché per le femmine non è così importante il sesso quello che conta è il bene dei propri figli quindi è proprio diverso l'atteggiamento e quindi anche in queste regolamentazioni della Bibbia che notoriamente è già in un periodo di struttura sociale di tipo maschilista con un dio unico il dio alfa in cima alla scala gerarchica degli dei non poteva che uscire così pur essendo delle regole di normale rapporti necessari in una società che però mettono in risalto la differenza tra i maschi e i femmine insomma Comunque Enrico mi ha corretto immediatamente perché mi dice che il comandamento della Bibbia parla solo di adulterio e che sono stati i cattolici che lo hanno modificato in questa maniera io non lo sapevo quindi io lo re io va bene anche i musulmani che non sono cattolici ma che usano sempre quella Bibbia appunto le donne che compiono adulterio sono lapidate i maschi no? non ci sarà scritto però caso dubbio le femmine va bene allora se non ci sono altre domande qua io non vedo comparire nient'altro quindi direi che possiamo ringraziarti nuovamente speriamo di avere ospite in futuro e quindi rinnovo l'invito al nostro pubblico per la serata del 22 appunto in un certo senso possiamo dire che proseguiremo questa conversazione parlando di patriarcato e religioni come dicevo nell'introduzione questa volta avremo più voci sempre al femminile alcune saranno studioseate altre religiose apro un'apprentisi un attimo prima di salutarvi definitivamente volevo parlarvi un attimo dei banchetti che quest'anno noi abbiamo ogni anno aprile-maggio teniamo dei banchetti in centro a Modena dei banchetti informativi facciamo un po' d'informazione soprattutto per quello che riguarda la dichiarazione dei redditi e l'otto per mille quest'anno anche quest'anno come l'anno scorso causa pandemia non abbiamo potuto effettuare non possiamo quindi effettuare questa cosa vi invito pertanto a informarvi sul meccanismo dell'otto per mille che sono i nostri soldi della dichiarazione dei redditi sul sito nazionale della UAR questo perché molti sono convinti che non indicando nulla i soldi rimangano allo Stato in realtà per come costruito appunto questo meccanismo di calcolo se non indicate nulla i soldi finiscono in massima parte alla Chiesa Cattolica quindi libero chi lo vuole di firmare per la Chiesa Cattolica però l'importante è che la scelta sia consapevole che si conoscano come funzionano questi meccanismi appunto e che quindi se non si desidera che questo avvenga si ponga una firma diversa io vi saluto ancora vi ringrazio per aver assistito e vi do appuntamento alla prossima grazie grazie